ciao a tutti ragazzi ciao 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 ragazzi come vedete questa è abbiamo finito le nostre case come vedete dai faremo fare il giro per un panoramico quindi come ve l'abbiamo detto perchè questa albera momento spaccato guarda faccio così ragazzi ditemi se vi piace ecco bellissimo mi piace tantissimo il ragionese l'aspettata ragazzi guardiamo se la mia idea piace di più vabbè allora ragazzi ora ragazzi la mia idea piace di più ragazzi adesso vedete che un amico black wolf è nabo perchè io non posso entrare a casa sua manco ha messo questa porta di ferro cioè lui può venire a casa da quanti pari non posso dire mai a parte la porta di ferro ragazzi così è troppo bella sembra quasi un cavo però ragazzi che cazzo me ne frega di casa sua c'è ragazzi guardate fufi2 ho trovato un altro cane vabbè fufi2 guardate il suo abominetto di casa del cazzo guardate la mia cioè ragazzi non vi dico ho prosciugato tutta l'argilla del mare per fare il tetto ragazzi non ho scritto il caso l'ho usato e ho la prossima ragazzi vedete quanto è ingrato ah ma vabbè ragazzi vi faccio vedere la casa mia che cazzo voglio vedere casa tua è fatta con legno del cazzo io ho prosciugato oceani per avere quello ha prosciugato oceani ragazzi vabbè dai vediamo l'ingresso di casa sua qui c'è la sua stalla con alibaba che non è stato rinominato ragazzi questo diciamo con la terrazza come potete vedere ma tu sei entrato scusa ma questi sono i piani diciamo inferiori ma ma relax ne non dirmelo che venivo anch'io no guarda che mi tosto è a casa mia però vabbè qui c'è il trampolino con la terrazza come vedete da cui posso fare il parkour per arrivare a casa di black wolf vedete ma tanto arriva solo sul tetto ragazzi vedete una cosa mia questa è la sua stanzina col suo letto da creeper poi qui ragazzi c'è il trampolino e lui ragazzi ha fatto sto abominio perchè è bellissimo ah ragazzi non so se vedete tutti quegli alberi di abete lì giù sai perchè l'ho messi perchè ogni volta dato che abbiamo fatto le cose con gli alberi di abete ogni volta non è che ci andava tanto di andare sempre lì anche se sinceramente questo legno fa davvero schifo si trova ora mi butto oh mio dio ragazzi vedete questa piscina mi ha aiutato a fare il mio amico si perchè le sue lascerò una bombina mi ha fatto a lupo su questa piscina vabbè casa tua quindi l'hai presentata casa mia ragazzi vedete guardate l'ingresso le sei le pressure plate l'ingegneria andate qui ci metterò anche un bellissimo cammino questa è una zona del ristoro il cane tu devi seguire al secondo piano fufi fufi poi appena avrò la netherrack farò il bel cammino fufi muori fufi 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 presentarvi le case e ragazzi questo qui è stato il più grande lavoro mai fatto nella storia dell'umanità basta casa mi è finita è enorme insomma vabbè ragazzi oggi faremo un super mega video di 40 minuti o mezz'ora a proposito da quanto è che stiamo registrando 5 minuti 2 minuti forse 3 vabbè ragazzi sono le 3.55 quindi questo vuol dire che alle 4 e mezzo stacchiamo quindi questo sarà un mega episodico oddio l'obiettivo deve già andare in caverna andiamo ok ma andiamo alla solita e noi cerchiamo altra cerchiamo ma c'è nera una qui dietro casa ma si ma sono patetiche ci sono dei buchi vecchi sono sono quei classici buchi che dici ok ecco guarda tu dici oh guarda un buco ah guarda c'è del carbone incredibile un buco con del carbone aia che cazzo ah è secco eh grandina c'è qualcosa io ho bisogno di qualche torcia con 13 vabbè guarda quanto carbone c'è scusa c'è un altro metà sei ragazzi qua c'è molto ferro pure guarda sto notando vedi che sei una merda si si ma si ma la racconto sta miniera per me finisce qua dici quassù qua c'è un buco un buco un buco ferro guarda perché continua ferro ragazzi io prendo questo carbone ho trovato il ferrico ok via allora ma addio la mia no ragazzi guardate ora non so basta ho imparato a combattere contro questi scheletri non mi muore si carrello da miniera dove? giù si armatura d'oro due diamanti che? ok trovo due diamanti in una cesta no no aspetta dove? dove sta? ah sticca giù ero si vieni ah vado il ferro qui c'è un acqua devo bloccare questa fortuna che era piccola questa caverna eh vabbè vaffanculo di solito vabbè basta mi arrendo ok mi arrendo vecchio vediamo ragnatele spawner no io c'ho uno spawner di solito ci sono oddio un buco delle scale vediamo lei ha trovato forse uno spawner oh lava lava cazzo lava 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 come lava lava del cazzo lava come lava ragazzi qua metto in tanti momenti vedi hanno credi senza rendere in che il piselluto vedi un caso ho dicendo oh ah comunque ho trovato l'armatura d'oro del cavallo in quella cesta oh si oh farlo farlo mi è piaciuto un blocco ragazzi abbiamo trovato che da una bella miniera non lo so no è piccolina tanto ora finisce ma si vai che è tutto sicuro ma si ora finisce ora finisce non c'è niente no dai che vuoi comunque qua c'è uno spawner vieni dove qua ma ma che che ho l'hai fatto però te le due due ce n'è uno di qua e uno di qua qual è una ciuffa le ragnatele via un'altra cassa un'altra armatura d'oro lol dai che abbiamo due armature d'oro per cavalli ma dai una eh adesso un attimo lo spacchiamo questo spawner ahia ahia valedizione ahia mi ha avvelenato merda hai del latte no ah ragazzi il latte toglie l'effetto di pozioni quindi anche avvelenamento di costieraini e si mette ok il minecart io lo prendo anche un po' di rotali non si sa mai fatte un attimo perchè sai ho visto anche una pianura qua vicino una pianura si una pianura vorrei andare a visitarla aspettami si mica adesso so via che mi miniera mentre sono miniera ma spatti a lontanare lui sta prendendo il carbone a quello che io penso sia un secondo spawner ah chi sa dov'è il secondo spawner ahia ahia ecco ma non c'è cosa se muore ma vai a fanculo mica sono un abbo come te figa che mi faccia ammazzare da una vagina il nostro linguaggio non ha dato ai bambini oh cazzo mi si è rotta la spada ahia io dicevo ho trovato una cosa troppo figa mi hai una mi dai una spada ehm fai ti una fornace ma ah 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 ci penso io no vabbè non è un problema ho trovato due diamanti in una cesta non so perchè eh eh oh creeper se mi sei la vagina troia no la mia la mia la mia crafting table la mia crafting table non hai ancora in mano vieni mamma ragazzi oggi abbiamo imparato una bella lezione mai andare in giro senza una spada cioè senza avere una spada resistente vieni un attimo vieni qua aspetti che c'è hai un secchio che ci fai con il secchio? prendo questa nuova sostituisci il carbone ok vabbè io aia scheletro scheletro vaffanculo scheletro vaffanculo scheletro ma faccio una c'è eh vaffanculo dimmi che ho trovato un'altra ancora che? due vecchio continua a trovare casse il minecart un po' genera un altro però se non aveva l'armatura seguo un attimo vieni vieni andiamo andiamo fufi dai però fai strada e mangia la carne e che mi sa col piano zerpo di creep ma on fail non ci guardate come è perfetta questa cosa per me tu c'entra tu ah bello sì il film di creep hai ragione prima c'è che c'è? ma è chiusa non c'è niente ma che mi sapevo c'è io ma boh ma guarda che bello zombie con lui muore io vado da sta parte stavo vando stavo vando c'è chi va dove vado io voglio andare ciao ci fai attento ma ancora attento è la colpa tua ma c'è ragazzi io ero io ero più indietro di te quindi davanti a me è colpa mia io ti ero più indietro ma va a cagare andiamo a vedere i video come quella volta del cane vecchio affanculo ma che avrei sempre torta avrei sempre torta tu hai sempre torta tu hai sempre torta da capirti tu ferro tu guardalo come guarda hai messo una torta eh toglite dalla minchia no sono arrivato io ma che cazzo vuoi che ti hai messo una torcia e neanche l'hai visto ma che sta a dire se l'ho messo io la torcia cosa vuol dire? cavolo mi chiamassi chi la torcia ma che cagli non c'è voi trovate i diamanti e mettete una torcia vero? oh oh altra ah e dove siamo? dove eravamo prima però io voglio andare da qua a visitarmi ferro visito una... perché ma è pieno di roba figa cioè il caldo alla fine è tutto ferro però no abbiamo un'incudine a casa no ecco finirà fare un'incudine ci servirà sicuramente un'incudine ma questa cosa non è stata finita ahhh madonna mia tre zombici dove sei andato? voi ero salito ah si ti vedo non mi allontanano stai fermo ma vaffanculo non ho capito scusa un altro spawner sono qui oh ma stai credo perchè sono bellissima dove stai? no no ma che culo no ragazzi c'è trovato uno spawner io prendo ferro no c'è mi viene più e mi rivolgo poi sarò io quello che mi metto in mezzo devo passare non è che sono miniere larghe 100mila blocchi la vita vediamo ma te le torce no eh io perchè qui ci vedo non mi legge da massimo ho messo qui ci vedo qui ci vedo solo qua dopo in media non vedo non cavolo non è vero nei video si vede quello meno nei miei si vedono perchè sono qualità black cioè la mia qualità è la ah perchè io odio le torce che si baggano quelle che ci stanno già nelle miniere che volte sono baggate ma sono andato in giro qui c'è un po' di lava quindi va poco a poco quindi se dovrei non so qui c'è un po' di lava bene quindi ora che me l'hai detto e la va del cazzo scompare ti ha una torcia così si vede bene ma non c'è niente di bello oh ma le mie torce no ragazzi c'avevo uno stack da 58 da 58 da 58 ma che palle mi va l'italiano mi va l'italiano 4,2 vecchio beh ancora ancora stai a manco sei ancora a giocare cioè vai studiare papone ma ha parlato che non si è andata a scuola oggi soltanto perchè mi sono preso mi sono collegato a due note ma che cazzo vuoi allora volta zitto figa oh cazzo la vagina in qua vieni da me vieni da me vieni da me ragazzi ma mi sa che questo video non c'è andrà a finire su youtube mi sa che ce lo bloccano per volgarità poca volgarità vecchio cerca di capire dove sono cazzo santa patata vieni immediatamente da me santa patata la patata è una verdura le verdure fanno bene io non so come si fa a arrivare dal sto nab cazzo ma scavati oh eeeh te hai scelto dietro un po' di fernse anche solo da sta parte che me ne frega ci ci sono tipo le solite gro un rigno un rigno mi ha avvelenato ah ragazzo l'ho visto ligno un rigno vai a un altro rigno un altro rigno se sta lì no c'è si l'ho rotto lo spawner così imparano stanno mi spiega perchè devo andare sempre da lui io ho trovato un cratere pieno di lava hai capito perchè devi venire tu da me adesso perchè io ho trovato un cratere pieno di lava ah pu ma tu sei sotto allora no no io sto sopra ah ecco ti ti vedo ciao oh cazzo eh quindi prima c'era un creeper vicino a questo spawner dici come imbutto o c'è no non lo so che c'è un creeper qua con la faccia da spawner non lo so cos'è le cose io mi butto coltanto sotto c'è l'acqua no perchè poi te lo anche ti vedo quindi e sono sopra ah si ti vedo sta lì non sai tu computer non supporto oh cazzo no qui è io no sotto la lava non posso buttarmi eh mi butto io dopo il massimo ti ho da coprire la lava ah anzi se sei bravo potresti provare a fare una cosa si vabbè se sono bravo potrei scavare venire di da te ma non ci voglio no no se sei bravo allora potresti mettere la terra o la poter fare fino a quell'ascensore d'acqua poi da lì ti vai in gioco con l'acqua io vado eh cioè ragazzi le sue tattiche sono incredibili oro oro oro? si you throw gold? non utile io ho un piccone d'oro solo perchè ve lo ho già scavare ma anch'io uno zombico no basta io adesso oggi non moro no crepo fuori tu oggi non muoro io oggi non muoro hai detto io oggi non muoro ragazzi avete sentito tutti ho detto io oggi non muoro voce del verbo morire 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 non morire ti copro la lava sempre se ti dico un'altra cosa ma avevo fermato la lava ma sta tranquilla ma secondo te io io sto su cui aspettare che tu mi aiuti ce la faccio a venire vecchio sì ma da qua non c'erano 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 cavolo tu parlavi di questo ascensore d'acqua no ma comunque la fine non c'erano no maledizione aspetta prima cosa ho il piccolo in diamante prendo l'ossidiana che c'è lì seconda cosa ho trovato una grottina secondaria dove? eh mentre scendevo l'ascensore d'acqua ma ho messo a riporta su scusa ammazzare l'elicottero è passato non si sente l'elicottero è passato ma non ci sa che è no come lo faceva non lo so non lo so perchè non prova perchè non prova a metterla la no mi sa che tu mi sa che qui no non c'è niente più aspetta che torno da qua mi sta laggando il mouse il mouse mi funziona male stupido ma perchè devo prendere l'ottidiana io ce lo sto facendo al parco guarda oh no mi ha detto ah ragazzi quanto bello ciao prima cosa ah andiamo anche un po' non ne no vai si oh che figa c'è sotto vado a culo avevo avevo anche un inventario pieno devo liberarmi di un po' di cose arbocello quanto c'ho paura di cadere nella lava wow ho abbastanza filo ho tre minecart ne bastano due ho tantissima pietra la ghiaia non mi serve questi due li trasformo in bastoncini che poi li trasformo per caso ho paura di cadere nella lava ma che ti spingo io se no boh perchè un po' poi oltre paura che sfiga volevo prendere l'ossidiana non si parla qui non ci sono manchi diamanti ma è un mondo di merda no non è vero dai però forse so dove trovare un po' di ossidiano che si riesce a prendere c'è il piccolo zombie è un po' di un po' di piccoli gioia porca di quella madonna allora ragazzi questo video non vedrete mai sul video e quindi e quindi glielo dici quindi ragazzi voi che non sentirete questo messaggio saprete che questo video non ci sarà perchè avete sentito questo messaggio dai spiegamelo dai spiegamelo ti prego spiegami questa cosa Fabio tu adesso mi spieghi se non ci pubblicano il video come fanno a sentire che tu gli dici che questo video non lo vedranno mai eh perchè Suda sta dicendo illustraci come fanno scusa no devi dirmi come fanno loro sentire il messaggio che c'è in questo video no se loro questo video non lo vedranno mai c'è 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 non capisco cosa tu dica dico che puzzi di merda ha parlato sono tutti che ti sei casato addosso adesso mi sto andando addosso perchè c'è un creeper di merda porca grazie al creeper trova d'altro perro vabbè e poi ragazzi voi vi mettete a insultare i creeper vergognatemi vergognatemi secondo me noi andiamo a casa a ruotarti e poi ritorniamo non lo so ma non lo so perchè io ho finito trovato no perchè io entro non ci torno più c'è sì se esco non torno io se lo preso se lo preso se lo faccio no 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 quello ma strano che comunque non ci sono i diamanti che padre no abbiamo già proteggato questo mondo di minecraft dai diamanti ragazzi ma mi sa che noi non lo dicevamo a battere andare bravo proprio non lo so però questa impressione cazzo hai molta fiducia sai ma no dai non è che sculata ma no dai non è poi così difficile sconfiggerlo bisognerà avere essere indiamantati con protezione 4 la spada comunque deve avere affilatezza e gli archi devono essere potenza ma che potenza infinita aspetto di fuoco anche se non so se se l'ender dragon non ha non ha effetto aspetto di fuoco e fiamma sai ma però mi sa che l'epidio dell'ender dragon sarà tipo lungo 40 minuti solo per sconfiggere l'ender dragon cioè io in creativa ci mettevo 20 minuti io l'unica volta che ho ucciso l'ender dragon l'ho ucciso una sola volta nella mia vita di minecraft ero in creativa con l'amore con la ferrullo guns mod e stavo usando il bazooka quindi fa un po' te li si avvicinava e gli tirava una bazooka non credo che l'arco incentrato abbia lo stesso effetto no piro ci ho messo un bel po' di colpi che palle sta qua oh ciao creeper ma dove stai sopra te oddio santo mi ha fatto volare su una ragnatela il creeper hm ragazzi noi dovremmo andare più lontano credo per trovare le caverne ma io sinceramente mi sa che sto cominciando a girare in tondo vero vabbè che le caverne sono tutte uguali che vabbè che le caverne sono tutte uguali però mi sembra di gi di minecraft cazzo mi si era bloccato meno ferma io ho messo con tipo uno stack da 64 di ferro io ho uno da 60 lol direi che basta per l'armamento dio no mad oh no ragazzi ma che fa ragazzi sapete già la procedura ci vediamo tra un po' ciao 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 ragazzi siamo tornati con il genio qua presente ragazzi io non ho trattato più quella cazzo mia di roba mmm quella cazzo mia di roba e praticamente da casa mi sono fatto un piccolo al volo di ferro ragazzi due palli perché ora mi dovrei rifare tutta quella roba c'evo tipo uno stack da 64 di ferro guarda quanto ferro c'è guarda quanto ferro c'è guarda quanto ferro c'è io cominciai io con no stavo ricadendo no ragazzi ma tu non sei caduto nella lava tu sei caduto dall'alto e sei morto ah stavo dicendo diamanti invece erano le teste degli zombie aia 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 me ne vado ho capito ho capito ho una festa privata non ho l'invito va bene ragazzi io mi scuso veramente se ho perso tutta la mia roba ma cazzo ragazzi lui si scusa se è nabbo ma ragazzi no no ragazzi ma poi dio ragazzi ci ripetiamo tra un attimo no bene ragazzi siamo ritornati lui non è venuto giù perché ha paura no ragazzi allora se io non so se avete visto il mio video stavo scavando un creeper da dietro i miei anni e mi esplode ma porco come c'è beh guarda che i creeper è tecnicamente vengono usati apposta per questo no ci li ha credo si ragazzi no io non avevo mai no veramente c'è non ci vai più abbiamo capito vecchio tu neanche se tu solo se sei in tu solo se sei indiamantato ci vai ad ora in poi esatto con la corazza protezione dalle esplosioni 20 protettine dal fuoco cioè non so ragazzi quindi io ora che c'ho un ragno dietro che morti non colpo ragazzi non mi chiede perché ho proprio un po' sempre sono così sfilato perché tu sei nabbo ti farò un corso di sopravvivenza dai sì sì dai sono gentile ti porto del ferro sono un dio buono e ti porto del ferro una bistecca mi prendo giusto mi prepari la cena che ho fame ah sì dai aspetta te la preparo per bene aspetta allora vorrei una torta grazie poi uno stinco di bue grazie eh dio porco muoio veramente sì devo fare tutto veramente sì veramente hai surfogato dal muro sì stavo scavando per tornare a casa c'era una ghiaia la mother shitter man o fucking woman che cazzo che cazzo sono che cazzo ci fanno 3 zombie sopra casa mia ma madonna sa ma che cazzo è lei avrebbe gentilmente del legno da prestare ma che cazzo è stasera ragazzi lei avrebbe gentilmente del non hai del legno va bene guarda no aspetta cosa non ando a compaglia ma vabbè guarda ho fatto una cosa molto poco stealth no ragazzi non ho capito adesso devo adesso beh che devo correre velocemente giù in miniera perchè? perchè vado a riprendermi la mia roba ho fatto la foto prima di morire figa figa ancora piccola in diamante e spada di ferro ma cosa stai registrando? ma certo beh che mica ho stoppato oh cazzo non ho ma qualcuno mi ha mi ha fatto rimboscata fuori casa allora ok ah la rimortacci mia quanto cacchio ero distante amico mangia oh grazie ma non ho fame ahahah pensavo di tornare alla casa di corsa e qui di tornare affamato vabbè te lo lascio allora ragazzi io devo andare ragazzi oddio stavo già per cadere dove va la miniere di qua qualcuno mi spiega cosa serve sta roba qua lo saprà allora ragazzi ragazzi io adesso guarda non c'è non lo so io in via da ricraftare l'armatura perlomeno cioè ma poi cioè no ragazzi ma queste che sono così sfigato ma che cazzo è questa vorresti venire a fare quello che sto facendo io? io non mi ricordo più dove era il punto in cui sono morto beh io gli ho fatto una foto ma perchè io ho un iphone 5 e poi un samsung poi l'intelligenza delle persone ma che falle ragazzi è ancora come spiega perchè ci sono solamente zombici ragazzi 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 sta arrivando quanti saranno a minuti? oh di già saranno 30 minuti o sono di strada? ma non lo so vecchio sono solo che sono sfigato ma scusate mi sono tanto fortunato ragazzi avevo la spada in diamante il piccone in diamante avevo tutta la mia bella armatura di ferro ero pieno di ferro cazzo la cosa non va bene si ma che cazzo vecchio ho trovato tutta la mia roba in superficie vecchio ho trovato la mia roba in superficie avevo le armature dei cavalli io vecchio le armature dei cavalli le stavo trasportando io le hai perse? adesso sembrerebbe di si dodici vai ho trovato il punto esatto in cui sono morto ora devo solo raggiungere la y vai vecchio ce la farò prenderò la mia roba le nostre armature dei cavalli dan 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 unut né clicca ya lMaster il tempo a flammare che piccino no no ho trovato un po' di roba di superficie non so come questa è via via la chiaia che mi è caduta in testa è questa ci scommetto 20 euro Sì Ho trovato un po' della mia roba Ah il piccone L'altro piccone in diamante Il piccone d'oro L'arco Tutto l'oro che avevo C'è il ferro che avevo Merda mi mancano ancora le armature però Certo devo andare giù ancora di uno E di uno E di uno L'ossidiana Sì ossidiana Legno Non ho le armature però Ah è qua fuori tutta la roba Ok È definitivo vecchio Ho trovato tutto No ragazzi la ammazza No ragazzi lui mi ammazza Ma che cazzo di culo che c'hai Ma che cazzo è sta cosa Si chiama bravura Ma una donna Si chiama bravura Sì Fappone Ho fatto la cosa che tutti farebbero Ho un pezzo di armatura L'ho trovata mia Ho due pezzi Mi manca la pettolina Peccato La pettolina mi è decida Che cosa? Sono ancora vivo Con tutta la mia roba Che bello Vecchio Mi arriva un creeper da dietro È un classico Quanto 5 Quanto ci guadrò Ah non è arrivato Allora dai ragazzi Direi che Sfigato Ho fatto pure abbastanza lungo Che cazzo dici? Beh 7 e ben Abbiamo voluto iniziare a registrare Verso le 3.50 Cazzo sono già le 4.30 Porca troia Ragazzi scusate non avevo visto che ore erano Ragazzi dai per oggi è tutto E ci vediamo in un prossimo Ma io non voglio laggiare YouTube Ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti Ciao ragazzi Ciao ciao